Con visite dentistiche gratuite per tutta la famiglia, marzo sarà il mese dedicato alla salute orale. Da mercoledì 7 fino al prossimo 7 aprile l'assessorato alle politiche familiari del comune organizza a Napoli un vasto programma di prevenzione per la salute della bocca dedicato soprattutto ai bambini di 6 anni, con l'obiettivo di intervenire in tempo su malposizioni o denti storti ed evitare eventuali problematiche respiratorie di deglutizione o masticazione che potrebbero peggiorare in età adulta. L'operazione è realizzata con i dentisti della società italiana di ortodonzia e da colgate e consente a chiunque voglia di sottoporsi gratuitamente ad un doppio esame odontoiatrico e ortodontico. Abbiamo dimostrato ormai da studi scientifici che il trattamento precoce delle malocclusioni è vincente, ha dei costi molto contenuti e ha degli effetti eccezionali. Ma questo mese della salute orale dà la possibilità di essere visitati gratuitamente anche i genitori, un'opportunità preziosa in questi tempi di difficoltà. Ai bambini delle prime e seconde classi elementari sarà distribuito un depian per spiegare che cos'è l'ortodonzia e l'importanza di effettuare la prima visita già a 6 anni. I controlli si possono prenotare telefonando dalle 10 alle 14 al numero verde 800 144 917 oppure collegandosi al sito www.prontodentista.it e selezionando lo specialista più vicino. Il mese della salute orale si inserisce nel più ampio programma di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute promosso dal comune per diffondere stili di vita corretti e tutelare il benessere dei cittadini. Un buon ordine del cavo orale sicuramente condiziona in modo positivo la qualità della vita futura dei bambini. Siamo certi di aver fatto una cosa socialmente utile.